Il target non cambia, quindi noi dobbiamo arrivare a 500.000 a fine mese, però abbiamo aperto da oggi la platea dai 60 anni in su. Ha fatto il punto sul piano vaccinale il commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo, arrivato questa mattina nelle Marche insieme al capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio. Il generale che ha fatto tappa al punto vaccinale di Piediripa a Macerata ha detto che le Marche sono molto vicine al target. Ieri la regione ha fatto 9.000 vaccinazioni e da questa settimana devono arrivare intorno a 10.000, ha spiegato, per poi portarsi regime a fine mese per essere in linea con il piano, cioè con le 15.000 inoculazioni. Il generale ha intervenuto anche sulle novità che riguardano AstraZeneca. Lema, sottolineato Figliuolo, ha detto che è un vaccino sicuro e spero che la vicenda si concluda così. Le seconde dosi vanno a chi l'ha già fatto la prima, le altre abbiamo allargato la platea dai 60 ai 79. Dai 60 ai 79 anni sono circa 13.275.000 possibili utenti, di cui 2.270.000 hanno già ricevuto una prima dose in precedenza e quindi prioritariamente il target è questo. Tra questo trimestre e il prossimo, ha proseguito il commissario, arriveranno 30 milioni di dosi AstraZeneca che copriranno la popolazione che rientra in questa fascia di età. Adesso è importante ridare fiducia a tutti e vaccinarci. Se ci vacciniamo usciamo, se riusciamo a completare gli over 80 come si sta ben facendo qua ai fragili, noi riusciremo poi subito ad aprire alle classi produttive. I nostri territori hanno sofferto, questo è un territorio del Made in Italy. Dobbiamo riportare il Made in Italy nel mondo e ci dobbiamo riaprire. Grazie. Terminata la visita nella struttura benedetta dal vescovo Nazareno Marconi, figliuolo si è spostato al punto vaccinale di Ancona allestito nell'impianto sportivo Paolinelli, poi si è recato a Palazzo Raffaello dove ha incontrato la giunta regionale e i prefetti delle Marche. Grazie. 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 Grazie.